Di Silvio Esper, di Bruno Berlusconi, con quella droga che porta a palla la porta, riesce a essere ancora più forte, e la droga di tutti gli altri, di tutti gli altri. Sono forti perché sono riusciti a cambiare la verità. Sono dei ari di verità, sono dei rapinatori di verità. Forse è il caso di prendersela con il popolo italiano, più che prendersela con Berlusconi. Berlusconi che ormai è alla fine, è all'epilo, quando ha capito che persino i suoi parlamentari si stavano rivoltando contro e è uscito con la minaccia di rinunere il numero dei parlamentari. Quando ha capito che all'interno del Partito Democratico stava nascendo un qualcosa di buono, che Franceschini stava creando nuove il riferimento, che aveva un po' messo all'angolo persone come D'Alema, l'asino Chiaro, questi ruderi. Non si fa tutto questo, non si fa senza fare la vostra, ma sono stati andati, non si fa la vostra, ma sono stati andati nuove la mente, perché D'Alema e questo non piano sono diventati i nuovi leader del PD, nonostante fossero stati investiti alla lotta. E fanno credere al popolo italiano che lui parla all'annunziata, e poi fanno finta di litigare e poi ci sono apprecciati di scadini. Non dopo la traduzione. perché la luce annunziata dovrebbe essere quella giornalista di sinistra che doveva poter fare il travagno di tanti altri che fanno giornalismo serie di informazioni e che tentano all'interno della radio televisione italiana di affermare la vita e così si dà il fumo negli occhi agli italiani però quanto poi ci sono le spinte dalla base quando la gente si ribella quando le associazioni antimacche si ribellano e dicono candidate Crogetta la candidata a Rita Borsellino altrimenti in Sicilia non prenderete un becco o un voto perché la gente voterà tutta per l'Italia dei valori voterà per Leone Corlando voterà per persone al fan voterà per Luigi De Magistris allora costretti cambiano la lista nell'ultimo minuto e ricambiano Rita Borsellino la regola di candidati e cambiano la progetta sindaco antimacchia di Gela che ha avuto il coraggio di licenziare la moglie di un boss ma se fosse qualche altrimenti sarebbero arrivati alla città in Sicilia non avrebbero preso un becco di un uomo e i siciliani, i siciliano desti danno il consenso a questi candidati che sono stati eletti parlamentari europei e a loro va il mio grande augurio e saluto che possano trovare quel Parlamento che possano dare la loro partita, la loro coalizione lo rinnovamento, la forza, quel vigore affinché tutti coloro che all'interno del Partito Democratico vogliono veramente affermare una volta per tutti i principi di giustizia e di onestà non vengono ostacolati da quelli cariatidi da quei personaggi, da quei figuri che fortunatamente sono ormai già smigrati in altre cose da una stella che viene premiato per aver fatto cadere il governo Prodi e che si candida col PPL e che viene eletto parlamentare europeo e che si è di quel Berlusconi che lui è venuto avversare per colerenza e che invece è andato a fregare per ottenere la parte per contattare la fa quindi è necessario che la base è necessario che la gente pervenne in tutte le coalizioni qualunque si sia un centro, di destra o di sinistra un PPL, un locatore democratico e forse anche all'interno di Italia dei Valori la base scaccia di tutti che la gente abbia la capacità di censurare i propri leader, i propri vertici che la gente abbia la capacità di affermare una volta per tutte l'esigenza e il primato della verità e c'è uno strumento che ci ha consentito di fare questo l'unico grande strumento che fa più paura di tutto posso finire le stesse presentazioni che è la rete se noi non avessi da dire niente 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 la capacità di censurare e che già l'anno in atto non ci saremmo conosciuti questa è l'unica vera e grande forza ma fortunatamente per loro ci vogliono prendere anche questa stanno cercando di minare come una legge anche questa il sistema però vi sta stranando io sono ottimista sono ottimista perché questi tappano una falla e se ne aprono altre quali a Sicilia sta emergendo che quattro parlamentari erano così con la mafia i zini sono ottimisti che erano anche in commissione antimafia perché poi così non è che si fanno mancare in amore anche arrivano a prendere per esempio a Napoli chi ci mettiamo in commissione antimafia? la boccetta cioè la boccetta in commissione antimafia cioè insomma è come prendere un diabetico e portare una pasticcerina ma vi prendete come? e la boccetta che cosa fa? la boccetta è un interpellaggio a questa gente il Parlamento si studerà un multe euro interpellato perché avendo saputo che c'erano delle procure c'era più la procura di Roma perché la procura di Roma ci sono dei magistrati che se ne stanno fregando che altri magistrati ne hanno indagato che si hanno fatto la previsione che il pubblico di esame che l'hanno là e ne hanno dato altri incarichi questi l'hanno saputo nonostante l'indagine non potrebbe essere segrete perché qualcuno ci l'ha detto e questi qualcuno ne capivano da cielo e non sempre ne avevano i stessi uffici una volta vedete difendevamo la magistratura ora stendo possiamo difendere i magistrati o qualche magistrati perché queste generalizzazioni sulla difesa dei magistrati stiamo attenti a rilasciare cambiare in bianco perché questi ancora incastano i crediti dei magistrati che hanno perso la vita affinché loro avessero le scolte e andassero ai incarichi direttivi a fare i incarichi direttivi poi ha fatto il ministro Alfano che l'unica cosa giusta che ha detto è stata quella che il consiglio superiore della magistratura gli incarichi alle funzioni direttive li lottizzano tra le correnti l'unica cosa giusta che ha detto Alfano quando il ministro è questa e non ha fatto attaccare dicendo come non è vero perché come li fanno le nomine dei procuratori e dei procuratori con il peggiore con il peggiore manuale che nemmeno la politica nella sua peggiore espressione ha potuto funzionare hanno nominato i sostituti i procuratori nazionali con questo stesso manuale e hanno escluso i migliori magistrati hanno escluso un magistrato che era il magistrato che aveva fatto le indagini per il comicidio impastato che aveva fatto condannare gli assassini di impastato la dottoressa Franca Inberga non è stata esclusa dalla nomina della popolazione e così il magistrato Giulia Nicolo Marino è stato escluso perché sono stati premiati altri perché ci entravano le logiche delle correnti in cui presunti pure magistrati di sinistra perché questi qua che si presentano come progressisti questi sono i peggiori questi sono i peggiori e se oggi i magistrati onesti hanno il coraggio delle proprie azioni è quello di dimettersi da queste correnti di truffatori perché fino a quando questa associazione nazionale magistrale sarà l'espressione di queste mediazioni di potere che sono peggiori delle mediazioni della politica la magistratura italiana non avrà un futuro e loro sono forti solo in quanto questi signori per le collusioni che hanno con la politica riescono ad affermare il controllo della magistratura ecco perché siamo scesi nelle piazze e non c'è il governo e non ci fermeremo perché nessuna cosa ci anima se non la sede di verità e di giustizia io non ho pensato alla carriera non ho pensato ai miei interessi io faccio il mio lavoro perché mi piace non lo cambierei per nessun lavoro io ho avuto io ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere nel mio percorso persone che hanno salvato la solidarietà e il salvatore posterdino e Rizona alfani mi hanno salvato dalla capacità io ho trovato queste due persone che per prima si sono strette intorno a me e mi hanno difesa e gli amici che mi hanno accompagnato nelle marce le manifestazioni davanti alle costruzioni le manifestazioni in varie parti d'Italia che hanno consentito che questa voce potesse diventare parole perché peraltro dopo che l'inizio avevano fatto a gara per chi mi doveva fare le varie televisioni nel tentativo di farvi fuori in cui c'era il rodeo mi avete presente quando un film di gladiatori io ero messo là vediamo che uccide per prima alla fine io i caduti che ho lasciati nel mio percorso perché perciò 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 e lì in quel rodeo in quel colosteo che era quel grande studio che quando sono entrato mi è gelata la pelle ancora vero era molto più grande di queste valenti più grande scandalo dallo storico della pubblica la foto di Silvio che è un scone col filmato di old piena perfura in Zardegna tra l'altro che lui che gli scandali che gli intende che gli vuole dare adesso qualche incendino mi dice ma forse gente aveva ragione perché io dissi loro una cosa nella riunione del Copacic quando fono tutti contro di me io dissi state attenti signori in questo momento voi siete qua per farmi la festa di un'altra di un'altra di un'altra